ed eccoli qua sono arrivati il dottor jekyll e mister hype di casa king liquid questi due liquidi li avevo assaggiati in fiera nel senso che quando sono stato in fiera verona loro li avevano presentati e quindi ho avuto modo di assaggiarli tutti e tre i giorni che sono stati in fiera con loro quindi li avevo assaggiati subito in fiera e quindi ho pensato che vi racconto questi due liquidi esattamente come li spiegavo o meglio cercavo di raccontarli alle persone che sono arrivate in fiera quindi tutti voi che eravate lì in fiera a verona al vapitali e vi ho raccontato questi due liquidi poi scrivetemi nei commenti se effettivamente ho detto le stesse cose che vi dicevo quando siete venuti lì in fiera ok dr jack e mister hype liquidi di casa king liquid liquidi freschi estivi adattissimi per questa stagione liquidi fatti in collaborazione con massimiliano begotti il bego che è un volto storico del vaping non del social vaping ok ma è un volto molto noto per gli addetti ai lavori anzi un volto storico definirei per gli addetti ai lavori quindi massimiliano begotti che ha collaborato con casa king liquid per realizzare questi due liquidi da quale partiamo voglio partire con quello un po più particolare e quello un po più particolare è proprio il dr jack il dr jack contiene melograno fico d'india e fantasia ice ok ice perché il liquido è leggermente fresco non troppo leggermente fresco la cosa che mi ha stupito di questo liquido ragazzi è stato l'accoppiamento tra melograno e fico d'india che è già una cosa particolare ok non si sente molto spesso questa combinazione soprattutto nel mondo della sigaretta elettronica e in più la cosa che mi ha piacevolmente colpito è che in questo liquido ci sentite anche la parte legnosa cioè avete presente il semino del melograno il semino del fico d'india dentro che quando lo schiacciate quei denti fa croccia e quella parte legnosa del frutto qui dentro sentite anche quella parte legnosa è un liquido da capire al primo tiro non vi esalta al secondo tiro non vi convince al terzo tiro comincia a incuriosirvi al quarto e amore perché più lo utilizzate più lo scaldate ripeto non fermatevi al primo tiro io quando ero in fiera e molti di voi sono venuti a provarlo dicevo proprio queste parole non fermatevi al primo tiro fatele almeno tre o quattro la bocca si deve abituare a questo connubio di sapori particolari si deve abituare soprattutto al dolce del frutto e al legnoso del semino ma è talmente particolare che poi dopo il quarto tiro di conquista perché è veramente particolare poi questa nota fresca perfetta per l'estate addolcisce ammorbidisce alleggerisce questo sentore anche di fico di india melograno e legnoso l'ice per me qui è veramente perfetto è nella quantità giusta voi sapete che io non sono un amante degli ice ma qui devo dire che è dosato bene dosato bene e passiamo al secondo che invece è il mister hype e questo a differenza del dottor jack che va capito va capito va assaggiato e tiro dopo tiro dopo tiro vi conquista questo è esattamente l'opposto proprio come dottor jack il mister id questo è amore al primo tiro cioè non vi serve neanche finirlo il primo tiro perché qui avete l'effetto wow questo è un lime e follia ice la follia sapete tutti benissimo che cos'è e dove si trova e dove viene coltivata mentre il lime è un po più particolare da trovare in giro è quell'effetto wow è quell'effetto subito chi di voi è venuto in fiera se lo ricorderà questa cosa un tiro ed è subito papete beach cioè questo è proprio il liquido estivo per eccellenza ok questo fa subito veramente spiaggia bikini birra fresca sdraio sole e musica ripeto ragazzi è il primo tiro di sta roba qua è subito effetto wow ed è subito ed è subito amore avete quella parte agrumata del lime quindi quella parte acida ma sostanzialmente dolce cioè come se ci fosse la polpa dolcita del lime non la buccia la scorzetta cioè ci sentite proprio un lime dolce e succoso io personalmente all'interno ci sento anche qualche nota dolce speziata come potrebbe essere qualcosa tipo la cola il sambuco qualcosa che mi ricorda anche un po vegetale dolce quel tipo avete presente quelle cose tipo aloe cioè che hanno un sapore cactus ecco quel sapore vegetale verde ma dolce rinfrescante anche qui l'ice un pochino più accentuato rispetto al dottor jack però vabbè credo che sia anche dato dal lime che intensifica l'effetto ice però anche qua tutto sommato detto da uno che l'ice ci zoppica un po accettabilissimo è un ice accettabile non è quella roba che ti penetra il cervello e quell ice che rimane confinato alla bocca la prima parte dell'alta gola qui ci arriva fino a qui al massimo la freschezza di questo ice non è quell ice che entra in tutta la gola vi ghiaccia i polmoni e persino il cervello vi viene frizzato completamente non siamo a quei livelli di ice e basta ragazzi cos'altro dire spero e credo di averveli descritti esattamente come li spiegavo in fiera a chi di voi c'è stato due liquidi che a me sono piaciuti tutti e due anche proprio per la diversità sul fatto che sono proprio su binari opposti uno effetto wow subito lime estate l'altro ha il melograno figo d'india il legnoso un po più capito a me sono piaciuti veramente 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 tanto tant'è che nei tre giorni di fiera penso che una boccia l'avevo fatta fuori io perché continuavo a caricare la mia poddina e li utilizzavo veramente con molto 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 piacere e questo ragazzi è tutto per questi due nuovi liquidi chi di voi li ha già assaggiati mi scriva nei commenti che cosa ne pensa chi li ha provati in fiera che li ho fatti provare in fiera mi scriva nei commenti che cosa ne pensa chi li proverà in futuro magari non aspettate l'autunno l'inverno perché poi l'effetto ice dà un po fastidio quindi provateli nel periodo caldo estivo che vi appagheranno di più personalmente li ho provati sia in mtl che per tiro polmonare e devo dire che hanno quella marcia in più nel polmonare assolutamente a mani basse anche nei dispositivi pod vanno benissimo i liquidi sporcano poco sono completamente trasparenti ragazzi non sono neanche iper mega stracarichi di zuccheri quindi non sporcano le vostre resistenze però col flavor ragazzi hanno quella marcia in più hanno quella spinta in più che con le mtl secondo me non hanno si attenua un po l'effetto ice nelle mtl quindi di questo bisogna dargliene atto quindi alcune cose soprattutto la parte legnosa del melograno viene fuori un pochettino di più e a chi piace può essere gradevole io però personalmente flevora mani bassissime anzi proprio flevorone proprio sta roba qua capito super spintone flevorone da super ragazzi una bella accoppiata per l'estate e ragazzi niente questo è tutto noi ci vediamo presto per una nuova video recensione e io come al solito vi auguro una buona giornata e una buona vita a tutti